Un'aula della scuola materna del primo circolo didattico Gino Landolfi di Agropoli è stata soppressa. Da sei si passerà cinque sezioni. In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza covid dove tutti gli istituti scolastici italiani, in vista della riapertura delle scuole prevista per il prossimo 24 settembre, fanno richiesta di incremento di organico e studiano soluzioni plausibili per evitare le cosiddette classi pollaio, l'ufficio scolastico provinciale di Salerno ha pensato bene di sopprimere una sezione all'interno dell'asilo agropolese. A fronte di questa situazione, dichiara la dirigente scolastica Margherita Baldi, siamo costretti a chiedere un organico speciale covid. La questione della scuola dell'infanzia, del plesso dell'infanzia centro, di infanzia centro è diciamo esemplare di aspetti disfunzionali, chiaramente disfunzionali del sistema scolastico italiano perché sia in tempi normali ma ancora di più in tempi di emergenza sarebbe stato opportuno, se non necessario, garantire un numero di alunni inferiore per classe e quindi avrebbero dovuto consentirci di mantenere queste sei sezioni perché in sei sezioni chiaramente il numero degli alunni è più ridotto. Invece è stata soppressa una sezione, quindi questa soppressione chiaramente ha fatto lievitare il numero degli alunni per sezione, però a fronte di questa operazione noi in questo momento per l'emergenza siamo comunque costretti a chiedere un organico straordinario, organico speciale covid che ci consenta di dimezzare o comunque di gestire dei gruppi all'interno di queste di queste sezioni. Insomma ripeto questo questo evento è davvero molto grave e ci fa capire come a volte insomma a monte dall'alto a livello ministeriale o a livello dell'ufficio scassico regionale o provinciale non ci siano scelte insomma ponderate che possano garantire un'efficacia dell'azione didattica, di interventi didattici e di fronte ai quali noi abbiamo diciamo scarsi se non se non alcuno strumento, dico noi a livello scolastico.